Voglio, prima della pubblicità, regalarvi invece un piccolo sorriso, se volete. Esiste un paesino in Francia, Lerolle si chiama, e trovate la storia a pagina 9 del secolo XIX, è il paese del buongiorno. Che vuol dire? Ebbene sì, è stata fatta un'ordinanza dal sindaco di questo paese in Francia che recita così. Chi incrociando una persona non lo saluta, magari con un buongiorno, o non lo ringrazia, sarà mandato via. Così, per ordinanza del sindaco. La rivoluzione bon ton del sindaco di un paesino della Francia. Basta i maleducati, il paese del buongiorno. Scrive Patrizia Albanese, l'educazione è come il coraggio, uno non se la può dare, ma almeno quelle poche parole, il minimo sindacale, buongiorno, buonasera, grazie, prego, scusi, per cortesia, dovrebbe tassativamente albergare in chiunque. Almeno così la pensa questo sindaco che ha fatto un'ordinanza per obbligare gli abitanti del suo paese, obbligare a ringraziare e salutare. L'ordinanza del bon ton è stata ribattezzata. L'errol, per la precisione, piccolissimo centro alla manciata di chilometri dall'aeroporto di Beauvais. Un piccolo paradiso, almeno a giudicare dalle foto. Non so quanti saranno gli abitanti, forse saranno 500, forse 1000, forse si conoscono tutti. Per questo è abbastanza più ovvio salutare lì, piuttosto che nelle grandi città. Il sindaco si chiama Gerard Ple. Chi entra negli uffici pubblici sarà tenuto a dire buongiorno, buonasera, grazie, per favore. Questo è l'articolo 1 dell'ordinanza. Altrimenti se ne può andare via. Non ho capito come. Per ordinanza viene prelevato e cacciato perché non ha detto buongiorno a qualcuno. Comunque sarebbe una buona ordinanza valida. Io per esempio vivo a Milano. Interessante come possibilità per desertificare Milano. Sarebbe buona. Un'ordinanza che obbliga la gente a salutare.